Per organizzare l'allenamento dipende tanto dal tempo libero, dalla disponibilità di tempo che ogni soggetto ha. Solitamente il weekend è più adatto per fare le sedute più estensive, cioè più lunghe, perché sono tutti più liberi, mentre nella prima parte della settimana è indicato invece dedicarsi a sedute più intense, ovvero fare lavori con un'intensità più alta, un impegno più alto, magari corte, però più impegnative.